Hi guys, falla galera o la chicos, ciao ragazzi bentornati sul canale di ZioAlfix Siamo oggi in un LTS Runners contro Motos Tron E vediamo ragazzi dove partiamo, partiamo in attacco, in difesa, non so, partiamo con le moto, si con le moto ragazzi E saremo subito sulla nostra moto di Tron, praticamente la Shotaro La Shotaro, dov'è che dobbiamo andare ragazzi? Scendiamo qui, dove sono gli avversari, coloro che dobbiamo sfondare, eccole qui ragazzi, sono qui Ho caduto giù quello, quindi si è suicidato, teoricamente, e forse pure io quasi Cazzo raga, si è suicidato anche il mio compagno, quindi si può cadere dalle moto molto facilmente, non c'è Che cazzo è questo? Raga è difficile, è difficile raga, si cade subito, non è come What the fuck, ha fatto male qui, leggissimo No Moners guarda che si prende, guarda bastardone Guarda si è presa la mia moto, no no vaffanculo, no Io voglio la mia moto, vabbè prendiamoci questa la sua E partiamo, ragazzi, che cazzo fate? Ok saliamo raga, e partiamo Dobbiamo fare un saltone qui per tornare sulla piattaforma, giusto? Yes E dove che sono questi raga? Andiamo a ricolpire questo subito BOMMA! Scusami Boschetta, no anzi non mi scuso proprio Perfetto, siamo caduti bene Boschetta è morto, ho ridotto in poltia Boschetta, quindi il primo è andato Andiamo a ricolpire altri raga Difficile salire qui sopra Manca l'ultimo già, si l'ultimo, Frenzy Bomber raga Ok, è difficile farlo a stanto Dov'è Frenzy Bomber raga? Ed è qui Prendiamolo in pieno Ok, non sono neanche morto, perfetto così Cerchiamo di prenderlo raga Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, Frenzy Bomber Eccolo, marone raga, non l'ho preso Come ho fatto a non prenderlo? No raga Mi sono suicidato, lo sapevo Lo sapevo, stavo dicendo speriamo che non mi si uccido Raga, Frenzy Bomber è quasi arrivato alle armi Anzi è arrivato al carro armato raga, siamo nella merda Eccolo raga E se è addirittura nascosto al radar, vabbè Moriremo tutti ora Uno contro uno raga Mi sa, mi sa che siamo alla frutta raga Anche se non riesco a capire Perché si è buggata la telecamera qui raga Vabbè Confidiamo in Ivan2525 E l'ha fatto fuori raga purtroppo Round perdente, ci vediamo subito al prossimo round Ed eccoci raga Round 2 Quindi siamo noi ora Venire stuprati probabilmente dalle moto di Tron, dalle Shutaro Cerchiamo raga di mantenere la concentrazione Siamo tantissimi Speriamo bene, ok Devo mantenere l'equilibrio qui Cosa non facile Dai raga, raga mi state spingendo Oh, cazzo fate Guardate qui raga, stanno come le bestie proprio Fatemi salire Ok, ci siamo Eh, però raga, se nessuno ha il coraggio Boom Guarda questo Raga, proviamoci Proviamoci raga Si può correre però Quello sta correndo Quindi raga, meglio correre a sto punto Corriamo raga Corriamo Oh cazzo No, 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 no No, no, non mi prende Non mi prende No, 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 sono caduto Cazzo Per scansarmi quello raga No Che brutta fine No Monerz è caduto raga Mannaggia Ci rimane Ivan Questo è caduto pure Quindi dovrebbe essere morto Perfetto Dai che ce la fai Dai Ivan Dai che ce la fai Vai dritto Ivan Vai dritto Vai dritto Vai 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 Ci siamo quasi raga C'è quasi C'è quasi C'è quasi raga Ci siamo quasi Qui lo vogliono disturbare con il fuoco Ma Comunque Tarara Ivan Ha comunque il massimo dell'energia E andiamo così Ivan Grandioso Andiamo a prendere le armi E ci prendiamo il nostro Uno a uno Così possiamo raga Assolutamente lottare dopo Prendere il bel car armato Facciamo fuori tutti Dai È sceso giù Non so se È una scelta discutibile o meno Però è sceso giù raga E vabbè Si sono suicidati tutti praticamente Non ho fatto fuori nessuno Bene così Ci vediamo al prossimo round Ok raga Vinrunners Contro Motto Strong Round 3 Rockstar mi bugga la telecamera Cerchiamo di fare più uccisioni possibili Ragazzoli Partiamo subito Le voglio uccidere così a freddo raga Tipo questo a freddo L'ho preso L'ho preso Dimmi dissi dimmi dissi dimmi dissi dimmi dissi Dimmi che l'ho preso Eh l'ho ridotto in poltia skywolf Scusami bro Cioè scusami no Ripartiamo ripartiamo Si potrebbe anche cittare raga Quindi ci provo Vediamo un po' se ci posso provare Però se non mi cado Questo lo prendiamo al volo Eh ma lag in una maniera O scena Oh 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 raga Sono andato dentro anche io Sono andato dentro anche io Sono andato dentro anche io Ho fatto fuori Come l'ho fatto fuori raga Ok sono io qui a rompervi i coglioni ora Ok 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 Ho di sotto alle corra raga Non so come Ho di sotto alle corra No non cadere Non cadere Non cadere Non cadere Non cadere Avevo fatto una cosa incredibile Vabbè comunque ho fatto fuori Tre persone E ho fatto un assist Bene così Sono stato subito Perché potevo cittare raga E ora me ne sto accorgendo Ok questo è un altro compagno Che ci è riuscito Vediamo se riesce a fare fuori Boschette è caduto No lag assassino Si è suicidato Mancano due raga Pier Giorgio e Boschette Boschette è caduto Ed è morto Bravo Ivan Manca l'ultimo Non mi dite che andate a prendere le armi No dai raga No Pier Giorgio no 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 Per cortesia raga Mi prego andate pure voi A prendere le armi Vai Ivan vai Ha preso il jet Vai veloce veloce Prima Vai Ivan vai Che cazzo fa questo Perché rimane fermo Perché resta fermo Ivan Si è nascosto la radar Ok ok Però poteva muoversi prima Lo stesso Vabbè è una buona idea raga Perché così Però questo secondo me Se è furbo Fa fuori tutti i jet Vediamo se lo fa per Giorgio Vediamo se è furbo Se fossi lui Fare fuori tutti Tutti gli idra qui Ok non l'ho fatto raga Vediamo un po' cosa sceglie Lui Bravo bravo Va Ivan Porta Oh si è suicidato per Giorgio Ivan non c'è più bisogno Mi raccomando Grazie a te stesso Ci vediamo al prossimo round Round 4 ragazzi Dobbiamo arrivare alle armi E ci devo provare Ragazzi Ci devo provare assolutamente Non voglio spiegare armi L'ho lo genna Inutile che mi provochi Ok vediamo raga Ci aspettano Ci aspettano Vediamo Uccidiamo questo No raga Stiamo prendendo tutti i fugi Ragazzi Muovemoci No 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 Non voglio morire così Ragazzi Vado e corro Sti cazzi Se mi prendono Le ruote mi fanno andare storto Ragazzi No 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 Mi prende Mi ha sfiorato Mi ha sfiorato ma non mi ha preso Ragazzi Vai vai Zolfix Vai Zolfix Vai Zolfix Ok Primo checkpoint fatto raga Subito subito Non devo perdere tempo raga Dobbiamo prenderci il car armato O l'idra Non lo so Ok quello ha lagato In una maniera esagerata Non so se sono io che laggo Gli altri Probabilmente posso essere anche io raga No 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 Perché 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 raga Perché mi bruciate Perché qualcuno mi ha bruciato raga No no Sono quasi per morire No Non voglio morire bruciato Almeno mi buttano sotto Va bene Ma non bruciato raga Per cortesia Ok ci siamo Ci siamo raga Ci siamo le armi Ci siamo Ci siamo quasi Ultimo pelino Ultimo pelino Ultimo pelino Andiamo così Andiamo così a prendere le armi Godiamocela raga Godiamocela Godiamocela Alla grande raga Che prendo Che prendo Caro armato Che cazzo No raga Come ho fatto questo No raga No No raga Qua veramente ci vuole La canzoncina triste Perché ero convinto Era arrivato alle armi Invece Quel fette di orange Cattivo Mi ha attrollato alla grande Porca e mamma mia Che peccato La mannaggia Fette d'orange Mi ha trollato di brutto Mi ha triggerato davvero Tutti i miei compagni Raga vanno qui Pensando che Possiamo fare il miracolo Ma guardate che fine faranno Raga Raga Mi sta aspettando Ivan Non vuole morire Per il caro armato A questo punto È cardo giù Vabbè Meglio il suicidio Che una morte certa Da parte di qualcun altro Questa è la filosofia Raga Non so se l'ultimo round Questo Se era Vincitore di 3 round Ho 4 round Noi comunque proviamoci Portiamoci a casa Questo round assolutamente Saliamo sulla nostra Shotaro E vamos Super luccicante Tamarroide Raga a questo punto Provo a cittare Perché Questi qua cittano Perché non dovrei farlo Pure io Raga Andiamo un po' Se ci riesco Da quel copy Dovrei fare così Raga Ah quasi Non mi cadere Ti prego Ok perfetto Sono Tutto bene Si sono già suicidati 3 persone Raga Questa cosa Non mi dispiace C'è qualcuno Che sta andando Troppo avanti Qui raga Dobbiamo fare Qualcosa subito Per fermarli Tipo questo No no Cazzo No non mi morire Non mi morire Dai Raga c'è qualcuno Che sta arrivando alle armi No 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 Raga No raga Porca eva No 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 C'è qualcuno Che è arrivato alle armi Raga Mi duele dirlo Ma è così Si raga E' lì E' arrivato Facciamo fuori Super Andrew Almeno Come ho fatto A non ucciderlo Come ho fatto A saltare lì Eh vabbè raga Abbiamo Abbiamo vita dura Siamo già morti Eh di nuovo raga Ora ci suicidiamo Come Dei inutili stronzi Sicuramente Proviamoci ragazzi Proviamo a metterci A levarci dal radar Vediamo se riusciamo A fare qualcosa Raga ma Credo sia quasi impossibile Nascondiamoci raga Proviamo a fare Chiudiamo qui Le luci E cerchiamo di cittare Raga Questo è l'unico metodo Per vincere Oh cazzo raga Questo sta qui Oh cazzo raga E' caduto E' sceso E' sceso E' sceso E noi saliamo Dai 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 E' già scelto Come ha fatto No Porca Eva Uh Super Andrew E' riuscito a prendere Il jet ragazzi Incredibile Grandissimo Super Andrew Ora quindi potremmo Farcela Potremmo sperare In qualcosa Che cazzo Che è successo Che è successo raga No Che è combinato Super Andrew Raga che ha fatto Super Andrew Che cazzo è successo Perché poi Raga mi spiegate nei commenti Che cosa è successo a Super Andrew Qui Che è successo Non l'ho capito davvero Vediamo se è partita O round vincitore Cioè sconfitta In realtà Vediamo un po' Raga se è partito round Partita perdente Raga purtroppo Non era un round Era Alla Diciamo i primi tre round Vincenti Si vinceva la partita Vabbè raga Spero che il video vi sia piaciuto Comunque E Purtroppo non si riuscirò A arrivare le armi Raga Peccato Peccato Ci vediamo al prossimo video Fatemi sapere se volete Ancora altri LTS Ciao raga Ciao raga